Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così il problema riguardo all'applicazione che non si è avviata correttamente, quindi in questo caso in questo breve tutorial vi spiego come risolvere così l'errore. Ora andiamo un attimo sul nostro cmd, quindi vai a scrivere sulla barra della ricerca cmd prompt dei comandi, tasto destro sopra, esegui come amministratore il prompt dei comandi e adesso andiamo a scrivere sfc spazio slash, scanno, farà così una verifica di integrità dei file, eccola qua, avvio in corso dell'analisi del sistema. Una volta che ha finito così questa verifica dobbiamo inserire un altro comando. Ora in questo caso una volta che ha finito così la verifica andiamo così a scrivere dsm, quindi dism.exe spazio slash online spazio slash clean up trattino image spazio slash restore health. Ok, proprio qua come c'è scritto, vai invio e aspetta così la risoluzione ai problemi di integrità dei file, quindi aspetta che il caricamento arrivi a 100%. Una volta fatto è stato ripristinato con successo, quindi puoi chiudere il prompt dei comandi senza nessun problema. Se non dovesse funzionare è possibile che all'interno del programma l'antivirus cancelli il programma che sta in quella cartella dove tiene il gioco. Quindi in questo caso vai direttamente sul tuo scudo qua su Windows, sicurezza di Windows, protezione da virus e accessenti fino a giù fino a trovare, gestisci impostazioni. Quindi aggiungi o rimuovi esclusioni, quindi tu quello che devi fare è aggiungere la cartella del gioco o di qualsiasi applicazione. Aggiungi un'esclusione, metto la cartella e aggiungo una cartella qualsiasi come quella di Counter Strike. Seleziona la cartella. Aggiungo quella di Counter Strike, così facendo l'antivirus non mi bloccherà i file all'interno, anche se dice che c'è un file minaccioso. Come fa a essere un file minaccioso se è un gioco di Steam, quindi un gioco di Steam che ho scaricato su Steam, quindi come può l'antivirus cancellare un programma del genere. Una volta fatto ti faccio un altro esempio, tipo questo è il programma o il gioco, tasto destra sopra, proprietà, compatibilità, esegui questo programma sempre come amministratore e fai applica. Se c'è la spunta qua sopra, togli quella spunta e hai fatto. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. Grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!